secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento riguarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie tanto talpoco mi sa che arriverà la notte ma la notte ci sono dei nuovi minerali non so no non cambia niente sono dei dei mostri basta e alcune meccaniche di gioco cambiano mettiti i blocchi di terra sotto fai la provata come hai fatto prima i blocchi a per salire dici si si schiaccia 2 ok esatto e poi qua ti posso insegnare un'altra roba schiaccia shift no vabbè cosa è successo si si è buttato giù dal pillar e hai preso danno da caduta a me come fortnite si ma no vabbè e adesso adesso devi ritornare su faccati quei due blocchi passaci sotto e ora due carico è grandissimo se venuto se 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 mi hai capito se sei qua non scappiamo tanto chi chiama entravano i video di favigeti non mi fa assaggiare perché no perché non fa assaggiare vabbè no perché c'è bello figo in diretta questo però è un meme questo è molto personale non entrerei nella insomma nell'argomento di quello che facevo io ma ti garantisco che no non guardavo porno ma il punto è che anche voi cioè voi da fidanzati mai visto porno raga ma questo cioè non è che io faccio io non faccio statistica comunque no cosa è successo quindi questo è quello che fa quindi questo è come mi sono comportato ma io non faccio statistica no però cioè quello che hai detto tu è un'affermazione forte ovvero se una persona è soddisfatta della propria relazione non va a vedere porno ma non è per forza così perché no no aspetta aspetta ho detto non va a vedere ho detto che dal mio punto di vista se vai a vederlo mi domando il perché quindi ho detto che non deve andare è una fantasia perché il sesso è diverso dalla morte ma posso dire di beccare quelle tette solite ogni volta che vedo cioè ogni volta veramente che ci sono dei video strani ho sempre paura di beccare quelle le tette mosce e zulu che veramente mi non so ogni tanto ci sono questi tiktok che non si capisce che bisogna smettere ciao raga oggi vi faccio con me fare una cosa molto divertente ciao Leo che figo come stai posso fargli due domande al volo che sono tanto curioso ciao Leo quanti anni hai? 23 ok il canale è di David Rubino ricordiamo che queste live le offrirebbe solo lui ragazzi posso chiedervi se potete non inquadrare cose nude no non c'è nessuno di nude ok perfetto perfetto guardate questo ma qua qua è lì c'è questa qua se vuoi è trezzante ha bevuto bello figo da me dammela comunque non è un fidanzamento non è che sono fidanzata ci stiamo conoscendo dai ci stiamo conoscendo ci stiamo conoscendo ma una domanda ma Rocco se tuo padre non ti avesse detto di non toccarla tu avresti girato anche con lei lui non gira più ah no sì no avresti fatto girare con lei in realtà perché allora devo dirti la verità mezza Italia non vede l'ora di vedere il mio uccellone sul viso suo che è lungo e grande quanto il suo viso che lo copre per intero perché mo che ce l'ho qua davanti cioè avendo l'acqua davanti quant'è piccola lo sai guardatela bene mi sono andata a commentare su tutti no no sono sacco a casa sono molto tranquilla perché non mi credi perché apparentemente il mio screen cioè sono io ho anche il cuscino dietro sono io quella sei scusata no non sono fidanzata nell'immediato può succedere può essere è una delle sfumature ricordo di un francese perché mi aveva grabbato su Fall Guys e io ho insultato tutta la famiglia che comunque ci sta un pochino cioè sì io ho anche detto implicitamente di usare un'arma vabbè no facciamo stare ah ok 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 ho capito ho capito vabbè salutiamo la famiglia di questo francese completamente abusato vabbè ogni tanto vabbè Stimo tu come parli cosa? tu come parli quando sei eletto? io? eh ma è di certo dentro il timpano c'è? eh c'è che cerco di entrare dentro il timpano della ragazza e urlare forte finché non sente più nulla vabbè è un mio modo di fare poi dico cose parlo di fiori un po' di ecologia ma perché sono un studioso io ah quindi è proprio un indole grina dimmi vittorione posso farti un buon biopassi? ho capito posso farti ho capito quello che ho capito anch'io vero? ho assolutamente ho detto allora vediamo oh eccolo qua Giuseppe Simone mi senti? sei mutato smutati bro sei mutato vai bella vai ti sento ora bella bello figo grande bro ciao dici tutto perché non ti fa assaggiare? qual è il tuo problema villone? perché ho i peli del cazzo russi ma come l'ha detto poi? cioè iniziamo che tutti ce la vibeiamo poi appena ce l'ho me lo chiudi da solo oh oh villone voi le sentite? lo sento lo sento millone millone eh millone ehi ehi millone millone ehi non mi fa assaggiare grazie grazie torale grazie mille benvenuti in questa nuova live ragazzi come state? come va? che merda vabbè ognuno ti fa la scuola che vuole che vi devo dire? che cappelli hai? eh perché non li ho lavati ieri quindi sono un po' sono un po' così mi stanno male di te? così? boh dai ho avuto i di peggio io voglio farti un'ultima domanda Rocco qual è il porno più bello che si sia su internet? gli anni 90 tutto il porno adesso fa schifo un cazzo sono tutti punturati non valgono un cazzo il porno il porno romantico del mio amico Rocco Tanica che mi diceva sempre ah quanto era romantico negli anni 90 con Moara con Cicciolina con Selene tutte ste donne che ti facevi che ti amavano ecco quello è il porno che era bello onestamente non mi vedevo bene con questi cappelli a me non piacciono questi cappelli a parte che avevo pure la barba non mi piace con la foto lì mi faccio schifo non mi piaccio per un cazzo cioè veramente corti capito? non mi piacciono grazie Tritec Boys grazie Claudio Twitch grazie mille ma dai ma veramente stavo bene io ho capito così ma che cazzo dite? il Papo non c'è che dire cosa sono mi ha inventato mio padre è stato lo so anche me e farò non posso fare niente per lui non c'è qui non c'è qui non c'è non c'è ma non c'è non c'è non ce la faccio più perché questa vita può non fare quando so dentro questo round so dentro questo round ma non c'è tutto niente se usano la musica fa te fa te fa Sì, certo Continuiamo così perché già ai tempi i billoni già lì E ho capito che i billoni veramente volevano assaggiare Però ancora non si chiamavano billoni Cioè billoni è una cosa nuova che ho trovato Dove è nata billone? Billone nasce perché io ho un amico che si chiama Billy Ok Ed è clamoroso perché? Perché ci racconta tutte le sue avventure, sai cosa Quindi in realtà Io e i miei amici comuni ci chiamavamo A nostra volta tipo billi 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 era diventato comune Ma scusami Ma tu Rocco sei fan dei peli sul corpo? Porca troia Vaffanculo bastardo Li adoro Li adoro Ci stiamo frequentando La cosa bene ragazzi Mario Acqua acqua Si è fatto male? Acqua acqua E noi tutti così guardiamo Acqua È lì Ciao Ciao